Cos'è Ultra Blu? Ultra Blu è unicità, è comprendere la bellezza di ogni neurodivergenza. Tutti gli artisti esprimono se stessi e la loro autenticità attraverso la forma d'arte che gli appartiene, trasformando un linguaggio di stereotipi in cultura delle diversità. Ultra Blu è condivisione. L'atelier Ultra Blu è uno spazio libero e autodeterminato, un'emersione di isole senza confini definiti, dove gli artisti creano e dialogano in totale libertà e fiducia reciproca. Ultra Blu è cultura. Tutti gli artisti hanno la possibilità di sperimentare, di formarsi e di emanciparsi nel mondo artistico, economico e sociale. Ultra Blu è un'associazione culturale che dal 2017 si impegna a creare un luogo d'arte e di cultura dedicato alle arti visive e performative, dove ogni artista con neurodivergenza è libero di esprimersi e di autoaffermarsi come persona e come autore. Dona il 5x1000 per sostenere il nostro progetto e per garantire a tutti gli artisti uno spazio, un dialogo e un futuro.